Ciao dolcezza Ciao dolcezza Come stai? Sono molto felice di vederti qui con me oggi Qui con me oggi Perché oggi in questa nostra seduta Anzi chiamiamola in questo nostro incontro Rilassante, 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 rilassante Voglio fare qualcosa di particolare Particolare, 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 particolare Oggi con te, con te, con te, con te Io voglio, voglio andare ad esplorare il nostro corpo Corpo, corpo Che voglio prendere consapevolezza Voglio che tu prendi consapevolezza Del tuo corpo Del tuo corpo Del tuo corpo Perché non bisogna mai, 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 mai Darlo per scontato Bisogna volergli bene Non gli devi volere bene Volere bene Volere bene Tuo corpo Tuo corpo Tuo corpo Essere grato Devi essere grato 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 Per il tuo corpo Il tuo corpo Il tuo corpo il mio corpo, il nostro corpo è un tono meraviglioso, 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 meraviglioso ci permette di vivere, ci permette di essere qui, 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 io e te, tu ed io insieme qui con i nostri corpi i nostri corpi, ci permette di vivere, ci permette di muoverci, 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 ci permette di sentire, di sentire, di sentire, di sentire e di amare, di amare, di amare, di amare, di amare, di amare, il corpo è il nostro tempio, un tempio che va custodito è rispettato, è rispettato, è custodito, è custodito, è rispettato, è rispettato, è custodito, è custodito, è rispettato quindi in questo video ti voglio guidare, 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 guidare in un viaggio, in un viaggio attraverso il tuo corpo toccando ogni parte del tuo corpo questo è un viaggio è un viaggio per esplorare per sentire per toccare tutte le parti del nostro corpo del nostro corpo e concentrarci sui sensi sui sensi che proviamo sulle emozioni che proviamo sfiorando il nostro corpo il nostro corpo il nostro corpo ti aiuterò ti aiuterò ti aiuterò a vedere il tuo corpo il tuo corpo con occhi nuovi occhi nuovi occhi nuovi occhi nuovi e apprezzarlo e apprezzarlo per quello che è e per sentirti bene con te stesso con te stesso sentirti bene con te stesso con te stesso con te stesso sei pronto allora? allora possiamo iniziare 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 questo nostro magico viaggio 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 per prima cosa per prima cosa come ogni volta che ci vediamo voglio che ti metti comodo 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 lascia lascia andare lo stress lascia andare tutti i pensieri della giornata della giornata passata della giornata che deve ancora venire e concentrati sull'adesso adesso adesso sul presente sul presente siamo io e te qui in questo momento e tu devi essere rilassato comodo privo di pensieri con i muscoli rilassati senza lo stress senza tensioni siamo io e te qui in questo luogo questo è un luogo sicuro è un luogo confortevole è sicuro è protetto sentiti protetto sentiti amato perché ci sono qua io con te ci sono qua io con te ci sono qua io con te e quindi tu devi sentirti amato 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 e protetto protetto è amato amato e protetto protetto e amato iniziamo con il chiudere gli occhi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi e rilassa la testa rilassa la testa appoggia una mano sul tuo petto e una mano sulla tua pancia e fai un bel respiro profondo e poi lascia tutta l'aria uscire dai tuoi polmoni e senti rifai un altro respiro e senti senti come i tuoi polmoni si riempiono tu lo puoi sentire senti il tuo petto che si solleva la tua pancia che ti solleva la tua pancia che ti solleva e continua continua fai i respiri profondi e rilasciali lentamente lentamente senti come i tuoi respiri salgono e scendono salgono e scendono il tuo petto si riempie la tua pancia si riempie e poi si suota e 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 si suota quindi concentrati 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 sull'aria che entra nei tuoi polmoni che fuoriesce lentamente dai tuoi polmoni e fuori uscendo porterà via tutto lo stress via 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 quindi respira 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 questa parte è molto importante è importante che tu continui a respirare che tu continui a respirare a respirare durante tutta la durata di questo nostro incontro di questo nostro incontro incontro perfetto senti un po' la pace e il silenzio siamo io e te e nessun altro e c'è silenzio siamo pronti per ascoltare il nostro corpo prima cosa voglio che inizi a muovere un po' le dita delle tue mani e dei tuoi piedi leggermente muovile 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 senti come i muscoli si stanno rilassando sia le mani sia i piedi sia i piedi sia le mani sia le mani sia i piedi bene voglio che continui a respirare a seguire la mia voce e a lasciare che le mie parole ti guidino in questo viaggio attraverso la scoperta del tuo corpo del tuo corpo del tuo corpo bene adesso lascio a te la scelta di quale mano usare e voglio iniziare dal capo iniziamo da capo con il capo voglio che ti tocchi la testa toccati la testa toccati la testa la testa la testa e senti le sensazioni che hai toccando la tua testa e pensa che questa testa ti aiuta a pensare a sognare a creare a sognare a creare a pensare ringrazia la tua testa ringrazia la tua testa senti queste emozioni e queste sensazioni che trovi toccandoti la testa passiamo poi alla fronte alla fronte accarezzati la fronte senti la pelle della tua fronte la tua fronte è simbolo di intelligenza della tua intelligenza e della tua forza ringrazia questa fronte ringrazia questa fronte sii grato della tua fronte toccati i capelli i capelli accarezzali 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 con amore questi capelli ti rendono unico unico e speciale unico e speciale passiamo al nostro viso al nostro viso al nostro viso accarezzati sfiorando i tuoi bellissimi occhi sfiorali e pensa alle meraviglie che ti fanno vedere con questi occhi tu riesci a vedere il mondo il mondo tutto ciò che ti sta attorno ti fa vedere cose bellissime a volte ti fa vedere anche cose tristi ma ti fa vedere cose bellissime ringrazia i tuoi occhi ringrazia i tuoi occhi ringrazia e senti le sensazioni che provi nel toccare i tuoi occhi i tuoi occhi prenditi cura dei tuoi occhi prenditi cura dei tuoi occhi prenditi cura dei tuoi occhi e adesso accarezzati gli orecchi accarezzati le orecchie le orecchie che ti permettono di ascoltare gli altri, di ascoltare gli altri, ti permettono di ascoltare musica, bella musica, bellissima musica, che ti aiuta a rilassarti, a renderti felice, ti permettono di sentire la mia voce in questo momento, la mia voce, ringrazia le tue orecchie, ringrazia le tue orecchie, accarezza le tue cementi, accarezza le tue cementi, passiamo poi alle guance, alle guance, alle guance, accarezzati le guance, le guance, senti la morbidezza della pelle, della tua pelle, delle tue guance, accarezzali, accarezzali, tagli anche dei pizzicottini, ma sentile, sentile, sentile le tue, sentile, sentile le emozioni, queste guance sono il simbolo di dolcezza e di sensibilità della tua dolcezza, della tua sensibilità, della tua sensibilità e della tua dolcezza, pensa a tutte le volte che quando sorridi queste guanciattine sono lì belle sporcenti e rosa, 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 Ma passiamo ora alla bocca, 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 bocca accarezzati la bocca ringrazia, ringrazia e si grado della tua bocca che ti permette di parlare, parlare, parlare ti permette di mangiare, mangiare, mangiare è molto importante, mangiare ti permette di sorridere, sorridere, sorridere importantissimo, devi sorridere, sorridi, sorridi tutti i giorni, sorridi, 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 sorridi fammi vedere come sorridi bravo, sorridi, sorridi, si grado, si grado e ringrazia la tua bocca, la tua bocca per tutto quello che fa per te la tua bocca, la tua bocca, la tua bocca, la tua bocca accarezzati tutto il viso tutto il viso fino al tuo collo accarezza tutto il tuo viso fino al tuo collo, accarezza tutto il tuo viso fino al tuo collo e senti senti la pelle, la tua pelle la tua pelle, il tuo involucro la tua pelle è quella che ti protegge ti protegge, ti protegge tu sei avvolta da questa bellissima pelle bellissima pelle, morbida pelle calda pelle, pelle calda rosa, pelle rosa, pelle rosa accarezza, le ringrazia le ringrazia, le ringrazia le ringrazia, le ringrazia le ringrazia, le ringrazia le ringrazia mai dare per scontato mai dare per scontato mai ti avrebbe ascoltato la tua pelle 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 scendiamo scendiamo più in basso scendiamo più in basso accarezzati il petto accarezzati e soffermati sul tuo lato sinistro soffermati e ascolta lo senti? perché sei vivo batte perché sei vivo e sei qui con me sii grato di sentire questo battito sii felice di sentire questo battito devi volere bene a questo battito ascoltalo e prova le emozioni di sentirti grato di sentire questo battito 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 passiamo poi alle braccia alle braccia alle braccia alle braccia alle braccia alle braccia di abbracciare le persone che ami sii grato grato e felice di queste tue braccia che possono abbracciare e anche salutare le persone che ami salutare e abbracciare abbracciare e salutare e anche ballare di gioia sentile, accarezzale, ringraziale per tutto quello che fanno per te per tutto quello che fanno per te per tutto quello che fanno per te per te, per te, per te accarezza la tua schiena accarezza la tua schiena la tua schiena che ha il sostegno del tuo corpo il sostegno del tuo corpo ringraziala, ringraziala perché ogni giorno, ogni giorno ti sostiene ti sostiene nella tua vita nella tua vita di tutti i giorni accarezzala, senti le emozioni che provi nell'accarezzarla e sei grato, sei grato, sei grato della tua schiena grazie, grazie, schiena di grazie grazie, grazie, schiena grazie, schiena e poi passiamo alla pancia la pancia accarezzati questa bella pancina questa bella pancina morbidina senti la pelle sotto le tue dita come pella morbida morbida, morbida, morbida ringrazia la tua pancia il centro del tuo benessere è il centro del tuo benessere è il centro del tuo benessere è il centro del tuo benessere ringraziala ringraziala sii grato sii grato della tua pancia della tua pancia della tua pancia la tua pancia è bellissima è bellissima 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 non pensare mai 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 male della tua pancia male della tua pancia male della tua pancia passiamo alle gambe alle gambe alle gambe accarezzati delicatamente le gambe le gambe le gambe che ti sostengono ogni giorno e ti portano in tutti i luoghi che desideri ti portano dove il tuo cuore vuole portarti ti portano ringraziale 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 sii grato delle tue gambe sii grato delle tue gambe devi volere bene alle tue gambe devi volere tanto bene alle tue gambe passiamo alle mani alle mani alle mani accarezzati le mani accarezzati le mani che ti permettono di toccare di creare di afferrare di creare, di toccare, di afferrare ti permettono di toccare le persone che ami ti permettono di afferrare tutto quello che tu desideri ti permettono di creare, creare, creare ringrazia le tue mani ringrazia le tue mani ringrazia le tue mani e sii grato sii grato sii grato mani che ti stanno aiutando a riscoprire il tuo corpo il tuo corpo il tuo corpo ringrazia le tue mani adesso passiamo, passiamo ai piedi ai piedi, ai piedi che ti permettono di camminare di camminare, di correre, di correre di correre, di esplorare il mondo questi piedini che ti permettono di fare tante, 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 tante cose sii grato sii grato di questi piedi sii grato grato di questi piedi non darli per scontato trattali sempre con amorevolezza perché ti permettono di camminare camminare a lungo ti permettono di correre di correre a lungo ti permettono di fare tante cose tante cose i piedi sono bellissimi i tuoi piedi sono bellissimi 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 quindi sii grato devi volere bene ai tuoi piedi aggarezzali 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 e fargli capire che anche a loro tu fai bene anche a loro 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 che soffrono tutti i giorni in quelle povere scarpe camminare camminare sono così stanchi sono così stanchi sono così stanchi non te ne accorgi non te ne accorgi di tutto quello che loro fanno per te che fanno per te quindi sii grato sii grato sii grato sii grato di questi piedi di questi bei piedini di questi bei piedini 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 e arriviamo poi alle dita alle dita alle dita dei piedi alle dita dei piedi alle dita delle mani tutte le dita tutte dieci le dita le due dita le due dita che sono il simbolo della tua flessibilità e della tua creatività flessibilità e creatività, creatività, creatività pensa a tutte le cose che puoi fare con queste dita le dita delle mani ma anche le dita dei piedi, le dita delle mani tutte le cose che puoi fare, che puoi fare, che puoi fare sii grato, sii grato, sii grato delle tue dita delle tue dita, aggarezza le tue dita, le tue dita e senti, senti, senti tutte queste emozioni che provi, aggarezzando le dita, tutte le sensazioni che provi, aggarezzando le tue dita, le tue dita, le tue dita, le tue dita, adesso rimani un po' ad occhi chiusi ascolta, 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 il tuo corpo, sentilo, da capo, a piedi, vocalizzati su tutte le parti del corpo che hai attraversato oggi, senti le carezze sul tuo corpo, le tue carezze precedenti che ti sei dato prima, senti tutte queste sensazioni, provale, provale di nuovo, ma sei straiato, semplicemente ricordale, ricordale e riprova tutte quelle sensazioni, e nel frattempo respira, respira profondamente e lentamente, sempre ad occhi chiusi ad occhi chiusi Ad occhi chiusi, ad occhi chiusi, ad occhi chiusi Ora le puoi aprire? Questo nostro incontro è terminato Spero di essere riuscita a farti vedere e a farti provare Emozioni nuove E a farti vedere il corpo, il tuo corpo da occhi nuovi, con occhi nuovi Da un altro punto di vista Ricordati sempre di volere bene al tuo corpo E di trattarlo con tutto l'amore che puoi dargli Guardati allo specchio ogni giorno E di a te stesso quanto vuoi bene al tuo corpo Quando vuoi bene e quando sei grato Va bene? Me lo prometti? Me lo prometti? Perfetto Allora io ti saluto Ti saluto E ti auguro una buonissima buonissima notte Una buonissima notte Una buonissima notte Ti mando tanti baci E abbracci Baci E abbracci Dalla tua ghia No, buonissima notte No, buonissima notte